In un contesto globalizzato quale quello odierno, necessitiamo di figure professionali competenti, preposte alla tutela e alla gestione del patrimonio archeologico-culturale sia nazionale che internazionale. Per assumere ruoli dirigenziali in questo ambito, presso istituzioni pubbliche e private, occorrono solide competenze storico-archeologiche e la capacità di applicare al lavoro metodologie didattiche di tipo tradizionale accompagnate dai più evoluti e innovativi metodi per l'analisi della cultura materiale. Il corso di Laura Magistrale in Archeologia forma professionisti capaci di dirigere progetti per la promozione del patrimonio archeologico e la valorizzazione delle risorse culturali. Il corso, articolato in cinque curricula, consente di acquisire conoscenze tecnico-scientifiche specifiche e adeguate competenze professionali nelle culture e civiltà che si sono sviluppate nel bacino del Mediterraneo, nel vicino, medio ed estremo oriente e nelle Americhe. Le studentesse e gli studenti avranno conoscenza e padronanza dei diversi settori delle scienze archeologiche e saranno in grado di operare in completa autonomia. Grazie ad una piena operatività nel campo della gestione del patrimonio archeologico, i laureati potranno spendere le loro conoscenze nel campo della collaborazione con enti di ricerca e di tutela, nella direzione di scavi o in progetti di documentazione. Potranno inoltre inserirsi in musei e parchi archeologici in ambito sia nazionale che internazionale. Dalla terra alla storia, l'antichità nel mondo contemporaneo.